Ciao a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, quarto appuntamento con il nostro Vinny Cannoli, signori. Allora, nell'ultimo episodio abbiamo incontrato un tizio che non ricordo ovviamente come si chiama, comunque ci può dare informazioni su quello che stiamo cercando, sul ragazzo che stiamo cercando, di cui non ricordo neanche il nome di come si chiami, però va bene, diciamo, siamo a buon punto, meno male che lui ha una gran memoria perché io non ricordo minimamente chi stiamo andando a cercare e perché lo stiamo cercando. Vinny? No, Vinny, te uomo, no, giotte, Vinny mio, ci siamo presi una bidonata, eh, due, dai, è quella che sta bidonata, pigliamo l'arma nuova, cosa è esploso? Perché stanno le esplosioni? Dai, 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 ok, la testa a questa è saltata. Detto questo, signori, prima di partire col video, porca miseria, prima di partire, vabbè, il video è già partito da una buona mezz'ora, da una buona mezz'ora, però prima di continuare, diciamo, io vi ringrazio per il like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto, spero che questa serie vi continui a piacere. Detto questo, continuiamo l'avventura con il nostro Vinny, è tornato quello delle botti, ok, fuori qui il cappellai magico, damose, damose, cosa sta succedendo? Ok, da sopra c'è una badante di cui non mi fido per niente. No, 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 due in un colpo solo, no, signori, due in un colpo solo, non ce la posso fare, non ce la posso fare, due in un colpo solo, ma porca Vinny, perché ho dovuto caricallarlo? Dai, 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 sulle ginocchia, sulle ginocchia, meno male, signori, ottima azione, ottimo uno, due, veloce. Cos'hai mangiato ieri sera, signora? Mamma mia, che rutto pesante che c'ha, un rutto che ti segna. Dai così, dai così, testata uno, testata due, e mamma mia, meglio non svegliarsi la mattina a fianco di questa. No, 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 ma che cos'è? Vabbè, non evitiamo di fare troppe domande, signori. Questo mi deve fare compagnia qua sopra, continuiamo a salire, ok, quelli sono bloccati, quindi, no, Vinny mio, Vinny mio, mannaggia. Riusciamo? Bello, spettacolo, ma neanche le casse posso prendere a calci? Le casse le possiamo anche prendere a calci, ok, buono a sapersi. Lì il gondolino l'abbiamo fatto fuori, ok, il policeman, dai così, in testa, bello, così te lo ricordi. Questo scende o questo scende? No, no, calcio lungo, questa è sparta, signori, questa è sparta. Cambiamo arma, dai, damoci un po' di divertimento, come se non ci fossero domani. Dai così, ce l'abbiamo i proiettiti di questo? Sì, ce l'abbiamo, occhio a questo, no, già non l'avevo visto. Dobbiamo raggiungere, oh, punto di salvataggio, meno male, un caffettino per noi, ok, e ci siamo rimessi in salute. Dai così, arma, siamo entrati dentro la casa di qualcuno, abbiamo una superarma, signori. No, 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 perché, perché, ma porca miseria, mi piace questo fucile a pompa, signori, questo fucile a pompa è cazzuto, porca miseria, teniamocelo, teniamocelo, dammi questo, questo, continuiamo a fare sfracelli con questo di qua, signori. Dai, 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 ottimo, ottimo, vedo stare i movimenti là sotto che non mi piacciono per niente. Dai, 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 appedate, sfondiamo la porta, dai, 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 tutto sulle ginocchia, tutto sulle ginocchia, una pedata volante, dai, così, occhio, cambio di arma, cambia di arma, cambia di arma, no, non siamo riusciti a farlo volar via, no, no, è arrivato il cuoco, dai, ma porca di mia, mi dia una miseria, occhio, occhio, non vogliamo essere cotti, siamo morti praticamente, signori, calma, ci serve un'arma più decisa, dammi la pistoletta normale, se non mi trovo molto meglio con la pistoletta normale, allora, caffè per noi, salvataggio trovato, e pedata la cassa, pedata la leva, non la cassa, ok, stiamo calmi, ok, c'è un po' di macello lì sotto, tanta cacciara, quindi, sapete che famo? Famo così, diamo il benvenuto a tutti, vabbè, stiamo calmi, dammo se, dammo se, dammo se, dammo se, dammo se de là, e dammo se de là, facciamo un po' di, abbiamo finito con queste casse, eh? Sì, penso di sì, penso che abbiamo finito con le casse, scendiamo velocemente di qua, dai, così, testa a tutti, testa a tutti, la signora, la signora, bomba, 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 bomba come se non ci fossero domani, bomba, ma porca, ma porca delle vostre sorelle impazzite, andate a quel paese, grande Vinni, carica così, mamma mia, signori, una cacciara terribile, dammi la pistolotta questa, le faccio saltare la testa a un bel po' di persone adesso, mamma mia, che me la son vista brutta, una cacciara terribile, una cacciara terribile, vi posso da un calcio, vi piglio a calcioni da qua, vi piglio a calcioni da qua, uno a uno, ecco così, un calcio l'uno non fa male a nessuno, dai, 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 poi facciamo un rapido salto, e dai, e tutti dritti in testa, mamma mia, signori, c'è stato un attimo di confusione generale, altro punto di salvataggio, dai, così, salviamo, armi in abbondanza, cosa bellissima, questo riesce a entrare, no, ok, che date il benvenuto, un taxi, macchine tranquille, no, 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 ero rimasto bloccato, mannaggia, mannaggia a voi, ma porca, ok, quest'arma è bellissima, signori, quest'arma è bellissima, la cassa la riusciamo a distruggere, la macchina mi dispiace, ma la facciamo fuori, signori, dai, ok, non lasciamo tracce, non lasciamo tracce, questo mi deve cucinare per forza, il cuoco malefico, via così, via così, via, 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 esplosioni cosmiche, buon anno, uno, due, tre, quattro, cinque, aia, prosegui tutte le esplosioni, mannaggia, ok, abbiamo fatto un po' di cacera che ci sta, un po' di cacera che ci sta, dai così, camioncino tattico, facciamo fuori il policeman, facciamo fuori il cuoco, ok, sono delle bombe rolgerie praticamente il cuoco, e tutti gli altri, mannaggia, vuole far saltare il tizio con tutta la macchina, occhio, ok, anche questa macchina l'abbiamo fatta fuori, mamma mia, ha tirato, riesce a esplodere secondo me quello lì, il policeman lo facciamo fuori, attenzione a questa ruota, non ho più proiettili, dammi, dammi, no, questo ne ho troppe, questo ne ho poche, vabbè, dammi, dammi se con la pistoletta normale, dammi se con la pistoletta normale, dai, dai, dai zio, non te la faccio fare la telefonata, mi dispiace, non puoi chiamare aiuto, calma, 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 prima l'erci, prima l'erci, prima l'erci, motivi da pedate, ok, devo riuscire a organizzare, via, 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 mamma mia, esplosioni cosmiche, ancora altre esplosioni, esplosioni su esplosioni, abbiamo fatto spazio, abbiamo fatto spazio, la cacera, abbiamo fatto spazio, dai, quanto lo sopporto questo, dai, torna qua, torna qua, sì, torna qua, torna qua, sì, dai, dai, dove stai, dai, ti piace così, mamma mia, quanto non lo sopporto il giocatore del rugby, dai così, oh, armi, 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 buono, buone salute, caffettino per noi, no, 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 la donna con l'alito pesante, dobbiamo stare attenti all'alitosi perché è terribile, l'alitosi è terribile, no, 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 bombe per tutti voi, bombe per voi e le vostre famiglie, bombe per voi, bombe per voi, siamo morti, siamo quasi morti, c'è pure un cane, ma era pazzia, cioè, ma cosa cazzarola è appena successo, ma cosa cazzarola è appena successo, la cacera più totale, no, 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 quest'arma ce la conserviamo per dopo, andiamo con la pistoletta normale per ora, qua c'è la signora col ciclo, no, 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 ok, li abbiamo fatti fuori entrambi, dai, lasciamo la macchina, ok, l'uomo che mi deve cucinare per forza, vini mio, non devi, vini mio, ma perché ti mi, ma esplode, sì, esplode, ci ha fatto anche malissimo, esplode, ci ha fatto anche malissimo, riusciamo a riparare di questa parte, ok, vediamo i vari bidoni che esplodono uno dopo l'altro, dai così, dai così, dai così, ok, distruzioni cosmiche, come se non ci fossero domani, li pigliamo da qua, li pigliamo da qua, tanto stanno arrivando, vini mio, devi essere veloce a caricare, però, vini mio, in occhio, esplode, secondo voi, prima o poi, sto cuoco, sì, ce l'abbiamo fatto, quello l'abbiamo fatto pure fuori, ok, calma, 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 e come lo faccio fuori da questo? No, 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 ma quanto vi voglio male, calma, 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 occhio all'ascia, lì, ok, esplosioni varie eventuali, dai, 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 dai signori, mamma mia, è successa una cacera terribile prima, no, vini mio, ma porca miseria, io tutti non riesco a prenderli, però se utilizzo il, la superarma, che se non sbaglio è questa, mannaggia a te, a chi non te lo dì, non gli ho fatto nulla, non gli ho fatto nulla, mannaggia a te, la donna con la litosi, la donna con la litosi, attenzione, è stato un piacere, signori, divertitevi, si scaricherà prima o poi, sì, si è scaricato, ok, stiamo calmi, ora qui sta per succedere la cacera più terribile, mamma mia, ma proprio ruttato in faccia, ok, forse ci siamo riusciti, signori, meno cacera di prima, ci siamo riusciti, ok, posso da cadere, su, mi ce l'ho, se li insegno, no, ok, da qui, non vedete, finché ci sono una fuori, ok capisci ok signori per questo quarto video io mi fermerei qui l'avventura sta andando bene speriamo che di continuare speriamo che continui tutto abbastanza abbastanza fluido detto questo signori vi ringrazio per i like e per i suoi studenti e per il supporto noi ci vediamo qui su questo secondo canale in un prossimo video bella raga, ciao